Ciao a tutte ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi voglio far vedere un regalo che mi hanno fatto delle mie amiche. Allora, il regalo dovrebbe essere questo, aspettate un attimo. Allora, dovrebbe essere questo. Allora, giochiamo insieme. E dietro vabbè così, tutto carino. Ed è fatto di cartone. No, di cartone, scusate, di plastica, è fatto di plastica. E è costato 4,90 euro. Vedete, 4,90 euro. E loro proprio l'hanno comprato loro. E visto che a loro, non so, non gli piace tanto Violetta, ma l'hanno comprato non so perché. Però a una di quelle amiche gli sta cominciando a piacere Violetta, ma non tanto. Quindi ha deciso di regalarmi questo perché io l'ho detto, visto che quando ancora non gli piacevano Violetta, hanno detto perché le loro compagne di scuola gli regalano poster. Gli ho detto, se non li volete, me lo date a me. Ecco, dateli a me. E quindi me l'hanno dato. Allora, dentro c'è... Allora... Allora, c'erano delle immagini. Questa di Violetta. Questa di Ludmilla. Questa di Camilla. Questa di Francesca. E questa di Diego. E vabbè, sono tutte fatte in cartone. Vabbè, e dietro, in tutte, hanno il logo di Violetta. Comunque, sono della seconda stagione, se non lo sapete. Comunque, cioè... Si sa che della seconda stagione basta vedere i vestiti di Violetta e il colore dei capelli. Comunque, vabbè, vabbè. Poi, questo. Che... Allora, scusatemi. Ma visto che le mie amiche non sapevano com'era Violetta, hanno colorato così. E' anche un po' male, però. Allora, questa. Che c'è scritto. Colore a Violetta. L'hanno fatto come Roxy, con i capelli viola. Rossi. E poi... Colore a Violetta e le sue amiche. E hanno fatto anche il tatuaggio. Poi questo. Colore al logo di Violetta. Poi questo disegno a Angie. Disegno a Violetta. Vabbè, ci sono vari... Vabbè, ci sono vari... Vari giochini. Devo dire... Devo dire... Un po' questo... Crociverb. E poi c'erano dei poster. Tre poster. Allora, tre poster. Poster. Grandi. Mega. Mega poster. Allora... Aspettate che mi devo mettere un po' più indietro. Due della prima stagione e una della seconda. Allora, questa. Dietro c'è anche il disegno che potete colorare. Poi... Poi... Questa... Con Camilla, Violetta e Francesca. Che ho scritto in lato. E dietro... Vabbè, c'era questo... Scusate per l'intrusione, ma è entrata mia mamma. Comunque, abbiamo anche... Questa che è della... Che era quella della seconda stagione. Veduto. Allora, questa. Quindi molto carina. E dietro così. Disegna. E colore Violetta. Hanno fatto la base. Tu gli devi fare gli occhi, il diario. Quindi molto carino. Spero di farlo. E vabbè. Quindi c'erano queste cose. Dietro c'è scritto. Contiene. Album da colorare. Più megaposter. Più megaposter da colorare. Più colori. Questi qua. Questi colori qua. Ma loro non me l'hanno dato. Vabbè. Non mi interessa. Dei colori. Tanto si possono anche comprare. In cartoleria. Vabbè. Quindi mi hanno regalato questa. Io sono contenta. Queste cose. Quindi io sono contenta. Perché io proprio... I poster non ce li ho. C'ho soltanto le immagini. Che ho attaccato. Non so se avete visto bene. Però vabbè. Comunque. Quelle erano soltanto della prima stagione. Comunque. Il video è finito. Un bacione. Scrivetevi. E commentate. Ciao. Ah. Ce l'ha anche nella porta. Però non mi... Vabbè. Ve lo faccio vedere. Scrivetevi. 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 Scrivetevi.